Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Salerno Editrice dal titolo Medioevo Inquisitoriale. Manoscritti, protagonisti e paradossi. E a presentarci questo interessante volume c'è l'autrice che è Marina Benedetti, alla quale io come mia abitudine non rubo tempo e lascio subito la parola. Prego Marina, a te. Grazie mille Maurizio. Dunque entriamo subito nel cuore della questione. Perché è un libro sull'inquisizione e perché è un libro sull'inquisizione medievale? Potrebbero essere delle domande così oziose. In realtà il punto è proprio questo. Ce n'era bisogno e che bisogno c'era. Esistono degli altri libri ovviamente e quindi che cosa voleva dire l'autrice che nella fattispecie sono io con un nuovo contributo? Beh ovviamente mia intenzione era quella ed è quella di fornire un punto di vista nuovo. Un punto di vista nuovo che lo si evince dal sottotitolo. Manoscritti, protagonisti, paradossi. Quindi in un Medioevo Inquisitoriale i pilastri, i punti di riferimento, le stelle porare sono manoscritti, protagonisti e paradossi. A me interessava soprattutto sfatare gli abbondanti luoghi comuni che continuano a infarcire un discorso sul Medioevo e soprattutto sull'inquisizione che vengono appunto trascinati in maniera stereotipa. e quindi ho cercato con questo volume di così scrostare un po', un meccanismo che secondo me non funzionava bene. Il Medioevo è già misterioso di per sé, per chi vuole vederlo così, l'inquisizione lo è ancora di più, l'eresia lo è ancora di più, quindi tutto il mistero che circonda l'eresia e l'inquisizione in realtà è mistero perché non ci sono dei documenti, non c'è la possibilità di conoscere, ma quello che noi conosciamo come possiamo interpretarlo e che cosa ci dice? Allora ecco alcuni luoghi comuni che a me è interessato sfatare per un avvicinamento all'inquisizione medievale perché qui si parla solo di inquisizione medievale, non si parla di santo ufficio. Quali erano questi, quali sono questi punti? Innanzitutto quello del nome, no? Se parliamo di età moderna parliamo di santo ufficio, tutti sappiamo quello che è. Quando parliamo di Medioevo parliamo di inquisizione e in realtà questo termine è un termine che utilizziamo solo ed esclusivamente noi. Nessun inquisitore medievale avrebbe mai parlato e scritto di inquisizione, non esisteva. È un termine convenzionale nostro, questo per dirvi a che punto arrivano degli stereotipi e dei meccanismi un po' arrugginiti. Come si definiva l'inquisizione nel Medioevo? Non inquisizione, questo deve essere chiaro, ma era, gli inquisitori lo definivano officium fidei. È un termine in latino ovviamente, l'ufficio della fede, il compito della fede o meglio il dovere istituzionale. Allora, gli inquisitori nei loro libri contabili parlano di officium fidei, che ricorda molto il santo ufficio di età moderna, perché da lì da diva, no? L'uffizio deriva da ufficium, ufficium, compito, dovere, mansione in termini più generico. Quindi, inquisizione non si chiamava così nel Medioevo, è un termine così amo noi, gli inquisitori definivano i loro compiti come officium fidei e gli inquisitori avevano una definizione molto lunga. Perché? Perché il termine inquisizio, scusate se inizio con il latino, ma sono parole molto semplici e soprattutto sono delle parole chiave per aprire delle porte e per non rimanere rinchiusi all'interno di luoghi comuni, all'interno di recinti stereotipi. Il termine inquisizio in latino significa inchiesta, indagine. È ovvio che da lì deriva la nostra inquisizione, ma deriva per tutta una serie di passaggi. Gli inquisitori nel Medioevo non utilizzavano il termine inquisizio da solo, perché era un termine generico. Esisteva l'inquisizio in partibus, ovvero le inchieste che avrebbero portato i processi di canonizzazione. Oppure esisteva l'inquisizio eretice pravitatis, l'inquisizione, o meglio, adesso lo sappiamo, l'indagine dell'eretica pravità o sull'eretica pravità. Da cui, da inquisizio eretice pravitatis per antonomasia, inquisizio, inquisizione e inquisizione, come la intendiamo noi oggi, ma è un passaggio, è un trascorrere delle parole nel tempo. Quindi, l'inquisizio dell'eretica pravità è un'indagine sull'eresia che è prava, che è malvagia. Quindi, anche in questo caso, per definizione, gli eretici sono malvagi. Non sono cose di poco conto. Canonisticamente, gli eretici sono malvagi. Ne derivano tutta una serie di conseguenze. Ma noi, in questo momento, siamo interessati più agli inquisitori che non agli eretici. Quindi, partendo da questo necessario chiarimento, vediamo quali altri luoghi comuni sfatare. Esiste un momento d'inizio? Per come lo potremmo immaginare noi, sì. In realtà, non esiste. Non c'è nessun, nessuno e nemmeno nessun inquisitore e nemmeno Bernard Ghi, quando parla della vita di Gregorio IX, che è il papa durante il cui papato è nata l'inquisizione, non porta una data. È una nostra esigenza quella di mettere una data d'inizio, come mettere una data di nascita alle persone nel Medioevo. Sono scelte, sono dati opzionali, no? Difficilmente è la vera data di nascita. Non c'è questa esigenza, no? È una domanda importuna dire quando è nata l'inquisizione. È impertinente, anzi. È ancora peggio, è impertinente, perché non è pertinente a quello che erano le esigenze degli inquisitori medievali. Quindi non c'è una data d'inizio. Sappiamo che o è il 1231 o è il 1233, di lì non si scappa, però non c'è un momento individuato. Non c'è un momento individuato, non c'è un luogo individuato, perché se l'inizio è policentrico, quindi a tanti luoghi, non ha nemmeno un momento preciso. Quindi non un luogo preciso, non un momento preciso. E cominciamo già a sgretolare dei luoghi comuni, quelli di un edificio del tribunale inquisitoriale monolitico, con delle certezze. No, non c'è un inizio cronologico e non c'è un luogo. L'inizio è policentrico. Beh, certo, però la documentazione invece è quella. No, quella era conservata negli archivi segreti degli inquisitori, proprio per niente. La documentazione invece ha un carattere eccentrico. Non esisteva nel medioevo un archivio centrale dell'inquisizione. Ogni frate inquisitore aveva il proprio archivio, e spesso i documenti li teneva nella propria cella. Immaginatevi i processi nella cella di un frate, poi li metteva nelle bisacce, se li portava nelle proprie viaggi o nelle missioni inquisitoriali, le perdeva, le rovinava, le faceva rifare. Beh, di certo nulla era conservato con quelli che sono i nostri criteri di conservazione della documentazione. Quindi la documentazione è centrica e attualmente è sparsa. Tant'è che i documenti più interessanti, documenti inquisitoriali recentemente rinvenuti, ci portano a una bella novità, ovvero i processi li troviamo laddove non ci aspettiamo che siano. Questa è la prova che non erano conservati nello stesso luogo. Per esempio, nel volume si parla del processo contro Mediolandi, che è un caso milanese che è stato studiato recentemente, di cui è stata rinvenuta della documentazione. Ebbene, lì la documentazione in parte è andata distrutta durante i bombardamenti di Milano, però per fortuna se ne era salvata una riproduzione fotografica, in parte invece si è conservata perché nel processo era coinvolto Bernardino da Siena e chi voleva proteggere la memoria di Bernardino assai probabilmente ha conservato anche questi processi in cui Bernardino era coinvolto. Quindi vediamo alcuni luoghi comuni sfatati. Un altro luogo comune è però i processi che si sono salvati sono consistenti. No, non sono consistenti. Non sono consistenti, non sono completi e soprattutto ci sono altre fonti che sono più ricche e competitive, se mi consentirei da questo termine, rispetto ai processi, ovvero i libri dei conti degli inquisitori. I libri dei conti degli inquisitori si sono conservati in numero molto maggiore che non i processi inquisitoriali, specialmente nella fine del 200 e degli inizi del 300. E quindi da lì abbiamo un punto di vista completamente diverso. Abbiamo il punto di vista di coloro che indagavano e di come indagavano. Abbiamo più l'aspetto poliziesco, il ruolo delle spie, il ruolo dei collaboratori, il ruolo degli ufficiali, ufficiali di polizia. Quindi tutto ciò che sta attorno a un processo, ciò che viene prima e ciò che viene dopo. Quindi anche sui manoscritti ci sono delle novità. Un altro aspetto è quello del, un altro caso milanese interessante da evidenziare, di cui ovviamente nel libro non si può fare a meno, nel libro non ho potuto fare a meno di affrontare, è quello del frate inquisitore e martire Pietro da Verona. Pietro da Verona è un altro caso interessante e per quel che riguarda la documentazione, proprio per dirvi come ci siano dei percorsi da fare che sono molto più affascinanti che solamente, che non ripetere sempre le solite, la solita vulgata sugli inquisitori. Bene, anche per Pietro da Verona abbiamo un caso documentario eccezionale. È andato smarrito quasi tutto. Pietro da Verona è il secondo santo dell'ordine dei Domenicani, il primo santo martire. È un caso eccezionale, se mi permettete questa, utilizzare questo aggettivo perché viene ucciso nel 1252, l'anno successivo è già santo. Quindi c'è un processo di canonizzazione velocissimo che corrisponde all'esigenza della Chiesa, al fatto che tutto era maturo affinché ci fosse un santo inquisitore. Ed è con Pietro da Verona a Milano che cambia la forza del progetto della Chiesa nell'ambito della coercizione, all'ortodossia e della repressione dell'eresia. Quindi Pietro da Verona che non si sa bene da chi sia stato ammazzato e che sicuramente non era cataro, questo va detto, in realtà era un frate, un inquisitore di cui al momento della morte sicuramente era importante, era stato predicatore, è stato inquisitore, ma non abbiamo nulla, nulla di ciò che ha fatto né come inquisitore né come predicatore. Non abbiamo i processi ai suoi uccisori, se non qualche frammento, non abbiamo il processo di canonizzazione che parte parallelamente al processo contro gli eretici, quindi due inquisiziones, una eretice pravitatis e l'altra in partibus, secondo quella differenza che gli ho fatto prima. E nemmeno abbiamo un dossier che viene mandato ai bollandisti nel 600 affinché questo santo venga inserito negli acta santorum, ovvero in quel capolavoro di erudizione che appunto raccoglie tutto il materiale sui santi giorno per giorno. Quindi è un santo di cui sappiamo poco o nulla. Cioè nonostante è centrale, il suo è un vero e proprio cold case medievale. Ed è interessantissimo seguire i personaggi, io qui non posso dilungarmi, ma è perché ci vorrebbe una presentazione solo per lui. Ma è bellissimo vedere i personaggi ed è bellissimo vedere come la documentazione è manipolata, è adattata, vengono cambiati i nomi. Sembra di vedere cose che noi conosciamo legate alla nostra contemporaneità. In realtà anche nei processi medievali tutto ciò accadeva ed è visibile ed è evidente. Come vi dicevo prima, non esiste un archivio centrale dell'inquisizione nel Medioevo. Nulla di più lontano da quello che erano le abitudini degli inquisitori medievali. esistono appunto le modalità di conservazione così domestiche per cui gli inquisitori riproducevano dei documenti per il loro bisogno, per le loro inchieste. Ma poi c'è anche un altro caso ancora più interessante perché mostra come gli inquisitori utilizzino il loro lavoro anche per autopromuoversi. E non lo fa un inquisitore marginale di una sede secondaria. Lo fa Jacques Fournier, vescovo di Pamier, poi cardinale, poi pontefice con il nome di Benedetto XII. Presso la Biblioteca Apostolica Vaticana c'è un codice che contiene la trascrizione dei processi a cui lui ha partecipato in qualità di vescovo e vice inquisitore che io quando li ho visti la prima volta ho detto. Strano. Costruiti in maniera molto elegante, con una bella copertina, con una bella chiusura, ma all'inizio scritti su due colonne. E questo è già strano, no? Perché i manoscritti giudiziari sono scritti in maniera continuativa. Ha scritto su due colonne, molto arioso, molto elegante, ma soprattutto con degli spazi bianchi agli inizi di tutti dei capitoli. Spazi bianchi che ovviamente attendevano una miniatura. Quindi Jacques Fournier diventa cardinale. Diventa cardinale fa riprodurre i processi che aveva fatto in forma elegante perché servivano per far vedere il lavoro che aveva svolto, no? Proprio in termini autopromozionali. Nel momento in cui diventa pontefice non c'è più bisogno di spendere soldi per le miniature. Quindi rimangono le riproduzioni dei suoi processi senza la parte finale che doveva essere quella che celebrava il manoscritto inquisitoriale che però era diventato un'altra cosa. Era diventato autocelebrativo, no? Quindi capite anche come guardare i manoscritti in maniera non ingenua porta a scoprire delle chiavi, no? Di lettura nuove. Un altro caso perché il libro, ecco non ve l'ho detto, il libro parte dalle origini dell'inquisizione, da queste origini policentriche e arriva fino alla fine del Quattrocento, inizi del Cinquecento e anche un po' oltre, con il caso dei valdesi alpini, dei valdesi delle cosiddette valles reticorum, delle valli degli retici, di cui per esempio abbiamo moltissima documentazione, documentazione sparsa in tutta Europa perché? Perché nel Seicento i protestanti devono ricostruire la catena della successione apostolica, dei testimoni della verità, devono rispondere alla domanda degli uomini di chiesa voi dove eravate prima di Lutero? Noi sì che rappresentiamo la catena della successione apostolica con i pontifici. Allora cosa fanno i protestanti? Cercano la documentazione sugli eretici, no? Cercano la documentazione di coloro che erano stati perseguitati dalla chiesa perché sono i loro antenati e in questo modo raccolgono dei processi. E nell'Europa del Seicento i manoscritti valdesi sono fra il bottino più interessante. E non è caso che questa documentazione è finita a Dublino, Cambridge, Grenoble, Parigi, Ginevra, in una collocazione di nuovo eccentrica, no? Ma se non si capisce perché è finita lì, non si capisce il processo che l'ha fatta arrivare lì, ma soprattutto non si capisce perché si sono salvati. Perché è ovvio che i protestanti salvavano quello che interessava, no? Allora, i processi contro due cosiddetti Barba, i Barba erano i predicatori itineranti valdesi. Bene, a Cambridge sono salvati due interrogatori di un processo contro questi due predicatori itineranti. Chi erano? Erano coloro che andavano di casa in casa nei villaggi alpini per portare, per fare una pastorale molto semplice, una cura d'anime molto semplice che consisteva nella predicazione, nella confessione, ma che portavano con sé anche i loro piccoli libri, no? Piccoli, gran libri scusate, piccoli come delle scatole di fiammiferi che tenevano nelle bisagge. Bene, due di questi predicatori itineranti vengono catturati, vengono interrogati, i processi completi sono scomparsi. Noi abbiamo semplicemente una copia di un interrogatorio ciascuno, no? Perché i Barba valdesi procedevano in coppia, no? Come gli apostoli. Quindi abbiamo due testimonianze, no? Due deposizioni, una ciascuno. Perché si sono salvate queste deposizioni? La prima volta che a Cambridge li ho visti ho detto, ma qui c'è qualcosa che non va. Questi due interrogatori sono stranissimi, non per i contenuti, ma per tutto ciò che sta intorno, per il contenitore. È vero che i manoscritti inquisitoriali sono eccentrici, ma è anche vero che è documentazione segreta, è documentazione a cui tutto, ma non tutti avevano accesso. Questi manoscritti invece hanno moltissime scritte a margine, in latino, in francese, quindi hanno una frequentazione molto vivace. E in particolar modo la mano quattrocentesca coeva ai processi, che sono degli anni novanta del quattrocento, individua tutta una serie di luoghi. Che cosa vuol dire? Che quei due interrogatori erano stati estratti dai processi, erano stati individuati tutti i luoghi, erano stati segnalati a margine ed erano diventati una mappa. Una mappa per proseguire le indagini verso tutti coloro che i predicatori andavano a trovare, quindi verso tutti altri potenziali o meno valdesi. Quindi questo è un altro caso di documentazione che, se la si guarda in maniera non ingenua, può dire molto di più e soprattutto spiega il perché si sono salvati solo due interrogatori fatti in quella maniera. Un altro aspetto che mi ha molto coinvolto di queste indagini sugli inquisitori è il libro non si limita a Milano e alla Lombardia a fronte al caso di Pietro da Verona, a fronte al caso del 1200 morto nel 52 e canonizzato nel 53, a fronte al caso del maestro Amedeolandi e del suo conflitto contro Bernardino da Siena e siamo la prima metà del 400, però anche se allarga da altre zone, alla Firenze, alla Toscana, all'Umbria, a Todi oppure Modena, a Parmareggio, alle valli dei valdesi, quindi è un'analisi ampia di alcuni temi. E in questo contesto un altro dei temi che emergono così in maniera quasi paradossale è il dimorfismo tra santità ed eresia. Cosa significa? Che alcuni eretici nascono santi e poi diventano eretici oppure viceversa. Il caso più clamoroso è Giovanna d'Arco, no? Che viene condannata come eretica, abbiamo tutta una serie di processi di cui notate non c'è ancora un'edizione critica definitiva, quindi l'eretica e santa più famosa dell'Occidente medievali ancora non ha la documentazione edita secondo dei criteri che ormai insomma dovrebbero essere utilizzati per un'edizione critica. Quindi Giovanna d'Arco viene condannata per eresia, poi si fanno degli altri processi di annullamento e poi verrà, subirà un processo, avrà un processo di beatificazione, diventerà santa e addirittura patrona di Francia. Quindi vedete che lungo itinerario nei secoli, no? Dalla metà del quattrocento fino agli inizi del novecento, cioè negli anni trenta del quattrocento i primi processi, la metà i secondi processi, inizi novecento beatificazione, poi diventa santa e poi patrona di Francia. Quindi sono dei percorsi molto lunghi che portano a questo strano cambiamento. Abbiamo dei casi anche più nostrani, abbiamo il caso di Milano, di Guglielma, sepolta a Chiara Valle, si credeva che fosse santa, veniva venerata come santa, intervengono gli inquisitori chirurgicamente, l'asportano i suoi resti dal cilitero di Chiara Valle, l'accusano di eresia, la mettono a rogo, mettono a rogo i suoi resti, poi accanto a lei Andrea Saramita, che era uno dei suoi principali collaboratori, i monaci non vengono toccati. I monaci che erano coloro che promuovevano il culto, ma lì ci sono dinamiche che sono tutte interne al controllo della santità dei laici, di cui i frati predicatori, ovvero i dominicani, volevano avere ogni prerogativa. Un caso estremamente simile, malmaschile e coevo, che ci fa vedere come non fossero dei casi anomali, ma fosse una prassi, l'abbiamo con Armando detto pur in gelupo a Ferrara, che anche lui viene, quando muore, viene sepolto nella cattedrale di Ferrara, viene venerato come un santo, parte un processo, un inquisizio in partibus promossa dai canonici della cattedrale, gli inquisitori dicono no, guardate che era un eretico, parte un altro processo, un inquisizio eretico e pravitatis, vedete come questi procedimenti di cui parlavo sono veramente molto simili, anche se divergenti. Bene, vincono gli inquisitori, il santo della cattedrale viene anche di lì esportato, nessun canonico viene accusato, ma addirittura l'inquisitore diventerà vescovo e siederà sulla cattedra del luogo di cui aveva portato via il santo. Quindi ci sono delle vicende che sono molto, molto curiosi, apparentemente paradossali, no? Per questo nel sottotitolo ho voluto mettere paradossi, perché sembrano veramente paradossali, invece non lo so. Un altro caso quasi paradossale, che anche qui emerge se si guarda la documentazione in maniera più attenta, è che ci sono moltissimi casi di annullamento di processi inquisitoriali. Cup de teatre, si potrebbe pensare che i processi inquisitoriali hanno una sentenza, quella è definitiva, gli inquisitori non sbagliano, non è vero. Il caso di Giovanna D'Arco per esempio, no? Ci sono i processi per eresia, poi ci sono altri processi che annullano la sentenza precedente, lei ormai era già morta però quindi non... Oppure ci sono i processi interessantissimi contro i cittadini e i fratti minori di Todi, anche in quel caso ci sono prima dei processi e poi dopo un po' di anni ci sono i processi di annullamento, ma per dire fermi tutti abbiamo sbagliato, no? Lì con gli eretici di Todi siamo nella grande fase definita l'età dei processi in cui da Avignone i pontifici e Giovanni XXII vogliono rimettere in riga i signori italiani facendo contro di loro i processi inquisitoriali. Bene, questi processi più o meno sono conosciuti, quelli contro i visconti sono molto noti e a me è piaciuto studiare altri casi più periferici, quello di Todi e quelli di Modena, Parmeriggio. Perché? Perché per esempio nel caso di Todi si vede un vero e proprio cortocircuito. Pensate che gli inquisitori in Umbria sono fratti minori, che già questo può suonare strano, no? Umbria, Francesco d'Assisi, inquisitori, fratti minori, c'è qualcosa che potrebbe stonare, no? Invece no, così era. Gli inquisitori sono fratti minori, gli inquisiti sono fratti minori, oltre che i cittadini di Todi. I notai sono fratti minori, l'antipapa, perché c'era pure un antipapa, non ci facciamo mancare nulla, era un fratti minore. In Umbria, nella terra di Francesco d'Assisi, nel Trecento, si arriva a questa situazione. Mi viene di nuovo da dire paradossale. Quindi per cui si fanno dei processi, Giovanni XXII lancia dei processi, poi dopo i pontifici successivi dicono, scusate, rivediamo quello che è accaduto perché non non funziona e infatti vengono annullati. Quindi questo è quello che mi piaceva sottolineare attraverso questi pilastri, no? La presenza di manoscritti che non bisogna vederli in maniera così pedante da topi di biblioteca. I manoscritti parlano molto di più di quanto noi non ci aspettiamo e ci raccontano delle cose estremamente vivaci. E soprattutto mi piaceva sottolineare il rapporto che c'è tra contenuto e contenitore. A Cambridge, quando ho visto i due frammenti di processi contro i barba valdesi che si chiamavano uno Martino e l'altro Pietro, ho capito che il contenitore, per quanto interessante, sarebbe venuto dopo. Prima bisognava guardare il contenuto, il manoscritto con tutto ciò che c'era attorno. E questo è anche un po' il, diciamo, in un romanzo di Camilleri, la voce del violino, il commissario Montalbano riesce a capire la chiave di lettura di un caso proprio nel contrasto tra il contenuto, una custodia di un violino e il violino che c'è dentro, scusate, il contenitore, la custodia di un violino e il violino che c'è dentro. La custodia è una custodia antica, il violino è un violino recente, c'è qualcosa che non va e da quell'osservazione si parte per dipanare il caso. Ecco, a me piace molto anche, appunto, sottolineare questo, il rapporto tra contenuto e contenitore quando si guarda i manoscritti è fondamentale e serve per capire ciò che non torna, ciò che è stridente. L'ultima cosa che mi piace sottolineare è il titolo, medioevo inquisitoriale. Medioevo inquisitoriale è ovvio che è una provocazione. Direi che potrei usare le parole di Ovidio Capitani che quando ha chiamato la sua, ha intitolato la sua raccolta di saggi medioevo inquisitoriale, ha detto, vabbè, suona bene, no? Suona bene, è provocatorio. E io potrei dire la stessa cosa, no? Suonava bene, è provocatorio. Però vorrei dire anche qualcosa di più perché diciamo che Ovidio Capitani sceglieva questo titolo di medioevo ereticale, echeggiando quello che era il medioevo cristiano di Raffaello Morgan. Quindi tra il medioevo cristiano di Raffaello Morgan degli anni 50 del secolo scorso, il medioevo ereticale di Ovidio Capitani, mi piaceva pormi in una linea di continuità, ma anche di evoluzione rispetto ad un concetto che prima parte dal medioevo cristiano, poi da un medioevo degli eretici, ma che adesso pone l'accento sugli inquisitori, non tanto perché siano più interessanti e più importanti degli eretici, quanto perché il punto di vista degli inquisitori è quello che plasma la figura degli eretici. Noi abbiamo pochissime fonti che derivano direttamente dagli eretici. Quindi dobbiamo guardare agli inquisitori per capire gli eretici, ma dobbiamo capire molto bene gli inquisitori prima di capire gli eretici. Ecco, io a questo punto mi fermerei se sei d'accordo. Sì, io a questo punto direi che bisogna correre in libreria ad acquistare questo saggio perché è veramente, come dire, un'immersione in una situazione che potrebbe anche apparire alquanto ingarbugliata, ma che invece tu riesci a percorrere in maniera così significativa. Quindi ripeto il titolo che è Medioevo inquisitoriale, manoscritti protagonisti e paradossi di Marina Benedetti, ovviamente, pubblicato da pochissimo da Salerno editrice e ha un prezzo anche molto accessibile. Quindi ne vale davvero la pena comprarlo perché merita assolutamente. Io starei ora ad ascoltarti e mi sarebbe tanto piaciuto fare questa presentazione in presenza, ma non è detto che non si possa fare a partire da febbraio, magari se ne riparla. Ti ringrazio tantissimo e a presto. Grazie, grazie mille, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare fino alla fine per ascoltare. Arrivederci. Ma « carri «Ambre» «Aprecznie «Apre fireworks» Arte «Case Rafa «Ascoltif »